Per vedere la nuova stagione di Tussi che Valles bisognerà aspettare ancora un po'. In questi giorni, tuttavia, si stanno tenendo le registrazioni. Dagli studio Selyos arriva una notizia su Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Anche in questa stagione il cast è stato confermato, il trio di conduttori sarà composto da Martin Castro Giovanni, Giulia Stabile e Alessio Sacara. Mentre la giuria da Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Dalla precedente edizione è uscito di scena Teo Mammuccari, il quale è stato sostituito da Luciana Littizzetto. Proprio la decisione di puntare ancora su Littizzetto aveva fatto saltare i fan dalla sedia. Si continua a puntare su qualcuno che evidentemente non c'entra. E ancora, vi prego, tutti ma lei no. Ditemi che non è vero, questo è un incubo. La maggior parte, in realtà, promuoveva Lucianina che, seppure con qualche passo falso, ha brillato nel corso della passata edizione. Nella nuova, sempre parlando di Giudici, non manca quello popolare rappresentato da Sabrina Ferilli, così come il ritorno di Giovaninno come ospite fisso del cast. A proposito di Sabrina Ferilli. La De Filippi pare aver voluto fare un bel regalo all'amica Sabrina Ferilli. Si legge su Superguida TV, la conduttrice è entrata in studio raccontando che per tutta l'estate l'amica e collega non ha fatto altro che romperle le scatole con una canzone in particolare, una di quelle che è diventato un vero e proprio tormentone. E ancora, la De Filippi ha quindi chiesto alla produzione di mandare, come prova che quanto stava raccontando era assolutamente vero, in video alcuni messaggi ricevuti, durante le vacanze, da Sabrina Ferilli. Da qui tutti hanno capito che l'attrice è letteralmente impazzita per Salda Vinci e per la canzone Rossetto e Caffè. Sabrina ha chiesto in tutti i modi all'amica di invitare Salda Vinci in una trasmissione. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video.